Allora ragazzi siamo all'ultima serata del campo e cerchiamo di condividere almeno in questo momento qualcosa visto che insomma il campo è stato un po' faticoso, comunque almeno in questo momento cerchiamo di tirare fuori qualcosa di bello, qualcosa di insomma che vi è rimasto nel cuore e liberamente liberamente si vuole condividere almeno adesso qualcosa. Parto io dai, non ho niente da dire, il campo per me è stato il solito campo, solite attività, solite momenti di preghiera, solite cose, non mi ha entusiasmato. Beh invece io devo dire che oggi mi sono effettivamente emozionato, ho sentito tutta l'emozione della settimana perché finalmente ho preparato le valigie. Io voglio condividere che ho sonno e che voglio andare a dormire. Beh se non ringrazio nessuno, non so se è smorto anche il fuoco, io ringrazio la sedia perché mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà, di riflessione, insomma mi ha sostenuto. Io dai, l'attività che mi è piaciuta di più e che mi ha fatto crescere come persona nel profondo è stata quella proprio che facevamo durante i momenti liberi e soprattutto durante la notte mentre si dormiva. Ah, sei grande! Partita a baseball Vuoi ritrovare tutti i tuoi amici del campo? Vuoi ricaricare le pile dopo un'estate moscia? Allora ti aspettiamo alla festa diocesana CG Dove? Maniago Quando? Sabato 13 settembre Dalle 15 alle 23.30 Non puoi mancare! Però? Ai, sei grande! Che parlate di Maria Ma? 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 Grazie a tutti.